State per vedere un video della serie Non era una brava persona, rubrica dedicata a un approccio simpatico e senza pretese alla letteratura italiana. Come potete vedere il titolo è seguito da una faccina con un sorriso al contrario. Tale faccina, detta anche emoji nel cerco visuale condiviso dalla società dell'immagine, indica ironia, scherzo. Ciò è volto a sottolineare che il suddetto titolo è ironico. Non dissacrante, non sarcastico, ironico. Avvertenze. La visione del video è sconsigliata a chi prende la vita troppo sul serio e chi non è disposto a tollerare approcci poco accademici allo studio delle discipline umanistiche. Peace and love guys. Ah, quest'ultima cosa non è ironica, eh? Amiamo la letteratura italiana e di una bellezza disarmante. La scorsa settimana vi ho raccontato l'episodio della mia amica che non ricordava di avere studiato Silvio Pellico a scuola. Poi ho ricevuto pari commenti nei quali mi dicevate che ricordavate di aver studiato Silvio Pellico, magari non nei libri di letteratura, nei libri di storia, ma comunque lo ricordavate come personaggio storico. Adesso sono curiosa di sapere quanti di voi sapevano che Massimo D'Azzeglio era uno scrittore. Cioè, scrivetemi, scrivetemi perché sono curiosa veramente, anche perché secondo me qui la lista si assottiglia. Allora, probabilmente ricorderete Massimo D'Azzeglio perché a lui è attribuita la celebre frase fatta l'Italia bisogna fare gli italiani. Perdonatemi la parentesi, però ogni volta che dico questa cosa forse ricorderete di me. Mi viene in mente quel personaggio dei Simpsons, sapete quell'attore che ha fatto duemila film e ogni volta si presenta? Forse vi ricorderete di me per film come qualcuno volò sul nido del paguro, ecco cose del genere. Vabbè, chiudo parentesi che non c'entra niente, poi andiamo fuori tema, cerchiamo di restare seri. Perché? Perché oggi dobbiamo parlare di Massimo D'Azzeglio. Io lo so che qualcuno di voi mi starà maledicendo nel privato della sua cameretta o della sua macchina, non so dove siete mentre state ascoltando questo video, probabilmente starà dicendo ma questa non poteva fare un bel video su Gabriele D'Annunzio che io ho intenzione di portarlo agli esami. Rido qui portarlo, perché i ragazzi dicono portarlo. Io porto Gabriele D'Annunzio agli esami, io porto Luigi Purandello, come te lo porti sulle spalle, col carretto? Vabbè, vabbè, chiudiamo pure qui. Oggi troppe parentesi, invece no, no, dobbiamo restare sul punto perché lo so che in tanti mi avete chiesto Gabriele D'Annunzio, non so perché c'è questo desiderio di sentir parlare del poeta Vate, che io fra l'altro ammiro tantissimo e arriverà, ad un certo punto arriverà, ma non oggi, perché per adesso io voglio cercare di seguire più o meno una linea cronologica e soprattutto vorrei approfittare di questo spazio, di questa rubrica, non era una brava persona, per parlare anche di quegli autori che sono un po' più, diciamo, nascosti, meno conosciuti, quegli autori per i quali non c'è abbastanza tempo, perché a scuola il tempo non c'è mai per fare tutto e allora si privilegia qualcuno a discapito di qualcun altro, ma siccome qui non ci rincorre nessuno, nessuno ci dà la caccia, non ci sono programmi da terminare, non ci sono competenze da acquisire, non ci sono limiti, quindi possiamo prenderci il tempo con calma e dare spazio anche a quegli scrittori che non hanno l'opportunità di essere letti a scuola, perché non farlo? E quindi oggi va collate Massimo D'Azeglio. Io prima di iniziare, ci sto arrivando, ci sto arrivando, vi vorrei dire che l'avvertenza che avete visto all'inizio resterà costantemente in tutti i video della serie, non ero una brava persona e vi chiedo scusa, mi dispiace perché mi rendo conto che possa essere un po' ridondante, anche un po' antipatica, anche io mi stuferei da morire ad ascoltare sempre la stessa pappa, però lo devo fare per una questione di tutela personale, di conseguenza se seguite con costanza questa rubrica che vi fa piacere attraversare insieme a me questo percorso di storia della letteratura italiana un po' alternativa, sappiate che ci sarà sempre, perdonatemi, schippate direttamente la prima parte e andate dopo la sigla. Massimo D'Azeglio quindi dicevamo, Massimo D'Azeglio nasce a Torino nel 1798 quando Alessandro Manzoni aveva 13 anni. Perché vi dico questa cosa? Avrà un senso, avrà un senso perché vedrete che Massimo D'Azeglio nella vita dell'ozioale, così come lo abbiamo chiamato nell'episodio dedicato a lui, avrà un ruolo, entrerà in qualche modo, quindi è importante sapere che fra i due c'era un po' di differenza ad età. Era il quarto figlio di un marchese, il marchese Taparelli D'Azeglio, Cesare Taparelli D'Azeglio, che per il figlio aveva riservato una vita, così come era prevista per tanti figli cadetti, una vita militare. Tuttavia Massimo non ha nessuna passione per le armi, proprio non gli interessano medaglie, successi, campi di battaglia, proprio non gliene frega niente. Lui è interessato altre cose e in particolare, udite udite, alla pittura. Pensavate alla letteratura? No, la letteratura arriva dopo. Prima la pittura lui sognava di fare il pittore, infatti giovanissimo, a poco più di vent'anni, si trasferisce a Roma e si stabilisce in questa bella, grande, importante città, proprio per studiare arte, pittura. Lavora come paesaggista, studia con dei paesaggisti e si specializza in questo settore. Fra l'altro ci sono dei suoi dipinti particolarmente belli. Io ho avuto modo di andarmeli a cercare su internet, dategli un'occhiata se vi capita, perché sono sorprendenti. Non sapevo che Massimo D'Azeglio avesse questo talento e queste belle età, alle quali si è dedicato veramente con tanta passione. Non so come l'ha presa suo padre, sinceramente non ve lo so dire. Sapete, i padri, i genitori in generale vogliono sempre il meglio per i figli, però a volte diventano un po' esigenti e richiedono che i figli seguano dei percorsi un po' predefiniti, perché i genitori li considerano i percorsi ideali, quelli migliori per i propri figli. Ma tante volte i figli hanno invece altri desideri, altri talenti, altre aspirazioni e desiderano perseguire quelle vie, quelle strade. Quindi poi ci si scontra, ci si scontra parecchio fra padre e figli. Io non oso immaginare che cosa sia accaduto quando Massimo si è presentato dal papà e gli ha detto, papà, io no, il militare proprio no, io prendo i pennelli perché io voglio fare l'artista. Non lo sappiamo, non sappiamo che cosa possa essere successo, chissà come ha reagito il Marchese Cesare, forse non troppo bene, anche perché ad un certo punto muore anche piuttosto giovane, ma spero che non sia dovuto ai dispiaceri datogli dal figlio perché sarebbe un po' triste, no, no, non credo che sia per questo. Fatto sta che alla morte del Marchese il nostro Massimo ritorna su, sale su al nord e si stabilisce a Milano e qui a Milano comincia a interessarsi anche di letteratura. Comincia anche a frequentare il Cenacolo dell'Ozioale, sì, eccolo qui, il Cenacolo letterario che Alessandro Manzoni teneva insieme a tanti altri letterati intellettuali e lì comincia a bazzicare anche il nostro Massimo perché oltre alla passione per la pittura comincia a maturare anche questo interesse nei confronti della letteratura e aveva abbozzato nel 1831 delle idee per un romanzo storico. Lui si presenta alla porta dell'Ozioale con quel fare un po' timido ma anche un po' così desideroso di un riscontro perché vorrebbe che l'Ozioale lo leggesse, magari mettesse una buona parola, ma questa idea decade immediatamente perché appena arrivato lì in casa succede qualcosa di completamente inaspettato. Ora, prima di entrare nel vivo della situazione domestica dei Manzoni, dobbiamo fare una digressione, me la dovete permettere perché è proprio lo scopo di questo video, quella di farvi capire e di riflettere anche un pochino insieme su qual era la situazione della letteratura italiana nell'epoca in cui Massimo D'Azeglio voleva scrivere un romanzo storico. Vi ricordate che nel 1827 era uscito I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, quell'edizione chiamata La Ventisettana, era questo nome celebre appunto perché si riferiva all'anno 1827. Bene, quando è uscita questa edizione è avuto un grandissimo successo di pubblico, ne abbiamo parlato nel video dedicato sia all'Ozioale che poi ai Promessi Sposi, ve li lascio tutti e due qui da qualche parte nelle schede o qui sotto se non li avete visti e li volete recuperare. Bene, a quel tempo il romanzo storico e il romanzo in generale in Italia praticamente non esisteva. Il romanzo moderno era nato nel 700 in Francia e poi soprattutto in Inghilterra, abbiamo parlato di Walter Scott con Ivano e tutti i suoi altri lavori, ma in Italia faticava a prendere piede perché? Perché in Italia fondamentalmente mancava la base sociale perché questo tipo di romanzo si potesse diffondere. Il romanzo moderno è espressione di una certa vitalità borghese, di un dinamismo, di una mentalità della borghesia che appunto non è rappresentata così in maniera profonda, radicata in Italia in quel periodo così come era in Inghilterra o in Francia, ragion per cui il pubblico che avrebbe comprato questi romanzi fondamentalmente non c'era. Allora, quale editore investirebbe mai in un lavoro che non ha mercato? Ma non solo, l'Italia è sempre stata anche un pochino legata a certi ideali del passato. Noi siamo, non tutti eh, non tutti, però tendenzialmente gli italiani hanno un po' quella diffidenza nei confronti delle novità, siamo un po' portati a storcere il naso davanti alle novità e a restare arroccati su certe tradizioni ben fondate del passato. Quindi c'era un certo conformismo classicista che continuava a sostenere che la poesia, il teatro, la tragedia fossero delle forme letterarie decisamente superiori rispetto alla narrativa, rispetto al romanzo. Oltretutto, non in ultimo, c'è da dire che la lingua letteraria italiana era rimasta proprio bloccata a una certa forma codificata del Cinquecento. Perciò il lettore medio non è che riusciva ad afferrare le proposte letterarie. Perché? Perché la lingua era praticamente inagganciabile, era troppo difficile riuscire a decodificarla. Io non penso che la mia tristrisavola qui del paesino ai piedi dell'Etna riuscisse a capire che cosa poteva scrivere che son Vincenzo Monti. Avrebbe fatto veramente molta fatica, suppongo, e questo è il motivo per cui il romanzo di Alessandro Manzoni riscuote quel successo clamoroso. Perché? Perché lui si avvicina alla lingua parlata, ne abbiamo già detto, lui si avvicina alla lingua del pubblico. Certo, è pur sempre un pubblico colto, il fiorentino colto, però già ci stiamo avvicinando un po' di più al parlato, alla gente. E allora, che cosa succede? Che nel momento in cui questo romanzo riscuote questo successo clamoroso, cominciano a fiorire gli imitatori. Non è una cosa anomala, non è una cosa strana, si è fatta sempre e non soltanto in letteratura. Io penso per esempio quando nel 1990 sono apparsi per la prima volta i Tate Death, la boy band che fece un successo incredibile e nel giro di poco tempo sono apparsi tutti gli altri, i Backseat Boys, gli NSYNC, i Boys On, poi c'erano gli Hanson, vi ricordate gli americani, i fratelli che comunque erano boy band, ecco perché c'era quel modello, quel modello che funzionava, che vendeva e quindi tutti lì ad imitare perché è un modello che viene eseguito da tanti. Ritornando alla letteratura, ma dopo il successo di Twilight, ma quanti vampiri ci siamo ritrovati nelle librerie, siamo stati seppelliti letteralmente per restare in tema non morti dal vampirismo e quindi è una cosa che succede in maniera abbastanza comune, quindi gli imitatori fioccano e sono stati tantissimi, ve ne cito alcuni che secondo me non avete sentito nominare, per esempio Tommaso Grossi che scrive Marco Visconti, Marco Visconti è un'opera in cui il protagonista è ricopiato uguale uguale sul modello dell'innominato, si potrebbe quasi quasi parlare di plagio, poi abbiamo Cesare Cantù che scrive Margherita Pusterla e c'è anche Guerrazzi, un livornese che affetto da una sindrome di Campollet anti-litteram comincia a scrivere romanzi storici uno dietro l'altro, praticamente senza fermarsi mai perché ha capito che quello gli può far fare fortuna. Va bene, Massimo D'Azzeglio si va a inserire un pochino in questa linea e decide di scrivere il suo romanzo storico, il suo romanzo storico che si chiama Ettore Fieramosca, quindi lui si inserisce in questa linea e mentre comincia a scrivere questo romanzo vi dicevo frequenta il cenacolo di Alessandro Manzoni e qui ce eravamo fermati poco fa dicendo che voleva far leggere questo inizio, questo abbozzo di romanzo allo zio Ale ma si ferma perché avviene qualcosa di cui lui non si aspettava, non si immaginava. Insomma a casa dello zio Ale conosce Giulia, la primogenita, questa ragazza bella, delicata, anche molto introversa, con una tendenza un po' malinconica e decide che la vuole sposare. Giulia in realtà non è molto convinta, anzi inizialmente lo rifiuta appunto perché lei ha un carattere piuttosto riservato, aveva avuto un'adolescenza complicata, ricordandoci che lo zio Ale aveva un sacco di nevrosi e quindi guardiamo in famiglia come doveva essere anche vivere con un padre che era problematico da tanti punti di vista e Giulia non vorrebbe sposare Massimo, poi alla fine però il matrimonio si combina, lo zio Ale dà la sua benedizione, i due si sposano. È rinomato purtroppo che non fu un matrimonio felice, proprio perché fra i due c'era un'incompatibilità di carattere, Massimo era molto intraprendente, aveva queste belleità artistiche, letterarie, Giulia invece era più fatta per la casa, per la dimensione domestica e i due non vanno particolarmente d'accordo. Hanno una figlia, Alessandra, che però purtroppo Giulia non vedrà crescere perché muore giovanissima Giulia nel 1834, è una pagina piuttosto triste, solo che Massimo non se n'è poi curato più di tanto effettivamente e va riconosciuto, sia perché già nel 1835 subito dopo si risposa, vabbè ma questa è una cosa abbastanza comune allora, quando si restava vedovi ci si risposava anche piuttosto velocemente. Ma poi durante la malattia di Giulia lui ha continuato a scrivere in perterrito, ha continuato a dedicarsi alla sua opera. Ora non ci fermiamo qui a giudicare se sia stato un buon marito oppure no, perché non sappiamo mai che cosa succede dentro le famiglie, quindi obiettivamente non lo possiamo dire, però possiamo parlare un pochino del suo romanzo, Ettore Fieramosca. Anche qui sarei curiosa di sapere quanti di voi lo conoscono e quanti di voi lo abbiano letto, Ettore Fieramosca viene pubblicato nel 1833 e riscuote un discreto successo. È un romanzo storico, assolutamente sì, perché si va a inserire dentro quella linea degli scrittori di cui parlavo prima. Il protagonista della storia è per l'appunto Ettore Fieramosca, ma la storia ha un impatto e un'impostazione decisamente di ampio respiro. È un romanzo ambientato nel 1503 e trae spunto da un episodio realmente accaduto in Italia e che ci viene raccontato da un grande storico italiano, cioè Francesco Guicciardini. In quel periodo i francesi e gli spagnoli si facevano guerra in Italia. Sì, è un dato piuttosto noto che Francia e Spagna in quegli anni, quando si dovevano scontrare, preferivano la nostra penisola piuttosto che le loro aree. Insomma, i francesi dicevano no, qua ci sono i campi di lavanda, no, li roviniamo, i spagnoli no, qui la Rioja, facciamo il vino buonissimo, no, li roviniamo, allora dove combattiamo? Combattiamo in Italia. Io non ho assolutamente niente con i francesi né tantomeno con gli spagnoli, figuratevi, mi piace tantissimo la lingua spagnola e trovo che la Francia sia un paese meraviglioso, però è dato di fatto, storicamente dimostrato, che le guerre preferivano farseli in Italia in quel periodo piuttosto che dalle loro parti, ma vabbè sono altri periodi storici, altri contesti. Rientriamo nel fatto, francesi e spagnoli si scontravano, gli italiani in qualche modo erano coinvolti, ad un certo punto un'ingiuria fa scatenare una sfida, una sfida tra francesi e italiani. 13 cavalieri italiani sfidano 13 cavalieri francesi. A guidare gli italiani c'è Ettore Firamosca che diventerà il vero e proprio leader e riuscirà a condurre gli italiani alla vittoria. Poi in mezzo ci sono tutta un'altra serie di sottotrame, c'è l'avventura, c'è una storia d'amore, poi Ettore Firamosca sparisce nell'oblio come i veri e propri miti dell'antichità, ma questi sono appunto aspetti secondari. Il tema centrale è sicuramente quello dello scontro tra italiani e francesi, che diventa un simbolo, diventa un'allegoria e soprattutto diventa l'occasione per poter riflettere un attimo, in questo momento, sulla funzione che la letteratura aveva nel momento in cui furono pubblicati tutti questi romanzi storici. Noi oggi consideriamo la letteratura in tanti modi, la letteratura che cos'è? Può essere un modo di canalizzare, esprimere delle emozioni, può essere finalizzata anche a sensibilizzare su un certo tema, può anche essere prettamente intrattenimento e nient'altro, la letteratura può essere molte cose, può essere tutte queste cose e anche molte altre. Però all'epoca la letteratura aveva una funzione ben precisa, era una funzione molto poco letteraria, se vogliamo usare questo termine, e invece aveva un altro scopo, che era quello di strumentalizzare il passato. In che senso? Tutti i romanzi storici che apparvero un po' come i funghi tra il 1827 e gli anni 50 dell'Ottocento avevano questa necessità, quella di guardare indietro al passato, recuperare gli avvenimenti del passato e rileggerli in una chiave moderna, patriottica e nazionalistica. Ovviamente questo scontro dell'Ettore Fieramosca fra gli italiani e i francesi, altro non è che una prefigurazione del futuro successo degli italiani che finalmente riescono a liberarsi dall'oppressione del piede straniero. La stessa cosa succede anche in un altro romanzo, sempre del nostro Massimo D'Azeglio, che si chiama Niccolò De Lavi, scritto un po' dopo, romanzo ambientato a Firenze nel XVI secolo, durante il quale Firenze viene privata della sua libertà. Ed ecco che Firenze privata della libertà diventa l'immagine dell'Italia ridotta schiava sotto la dominazione straniera. Questo era l'intento di tali scrittori, non solo di Nazimo D'Azeglio ma anche di altri. Quello di scrivere dei libri che avessero dei messaggi patriottici, questa volta sì, non come le mie prigioni Silvio Pellico che abbiamo visto era stato un po' confuso nel suo intento, questa volta sì, si voleva educare il pubblico alla crescita, alla maturazione di un sentimento di affetto e devozione nazionale. Completamente diverso dall'intento di tanti altri romanzi ma qui invece l'obiettivo c'era, era proprio quello educativo, didattico-didascalico e guardate che in Italia di letteratura didattico-didascalica ne abbiamo avuta tantissima e non solo in Italia e anche in altri paesi. C'era un intento ben preciso di utilizzare la letteratura come strumento per educare i popoli, per creare una coscienza nazionale. Naturalmente in questo senso non possiamo parlare di romanzi imparziali, non possiamo parlare di una letteratura nemmeno osservabile da un punto di vista neutro e anche piuttosto povera poi per quanto riguarda quelle caratteristiche esquisitamente letterarie perché per far emergere un po' questa finalità, questo scopo, si perdono tanti altri elementi. I personaggi in questi romanzi sono piuttosto piatti, sono dei personaggi che non si evolvono o sono allineati in delle schiere manichee, cioè da una parte ci sono i buoni, dall'altra parte ci sono i cattivi e non si cambia perché lo scopo appunto non è quello narrativo ma è l'allegoria, l'altra finalità, la finalità educativa. Ora Massimo D'Azeglio vi ho detto riscosso un certo successo con questo romanzo, soprattutto col lettore Firamosca, ma fondamentalmente la letteratura non era il vero scopo della sua vita. Probabilmente era la politica, tant'è vero che ad un certo punto si mette a scrivere ma opuscoli, opuscoli polemici e anti-austriaci. Partecipa agli avvenimenti del 1848 e poi viene chiamato da Vittorio Emanuele II come presidente del Consiglio dei Ministri, ruolo che rivestirà fino a quando nel 1852 non passerà il testimone a Cavour. A quel punto ricoprirà degli incarichi politici minori, diventerà anche governatore di Milano per un periodo, ma fondamentalmente non si dedicherà più alla scrittura come attività principale della sua vita. L'interesse nei confronti della politica rimane sempre piuttosto attivo. Lui era convinto che l'Italia non dovesse unificarsi, che non era il momento, che non era abbastanza matura perché il nord Italia si potesse unificare al sud. Era contrario al fatto che Roma diventasse la capitale e ne parla in un opuscolo polemico che si chiamava Questioni Urgenti e in questo opuscolo parlava proprio del fatto che Roma capitale era un po' il risultato di una certa retorica antica che non era adatta ai tempi, ma le sue proteste e osservazioni non vengono tanto ascoltate. Infatti ad un certo punto Massimo D'Azeglio si ritira, trascorre gli ultimi anni della sua vita presso il Lago Maggiore dedicandosi alla stesura delle sue memorie, che si chiamano appunto i miei ricordi e che potete consultare se avete voglia di approfondire ulteriormente la storia della sua vita, con la quale noi oggi ci fermiamo qui. Spero che l'argomento vi abbia un po' incuriosito o che perlomeno si è riuscita anche in parte a fare luce su una porzione della nostra storia letteraria che appunto nelle scuole non si affronta tanto, non si dà particolare rilievo. C'è, però non tutto quello che viene scritto è sempre squisitamente, puramente e imparzialmente letterario. Alle volte ha anche degli altri scopi ed è interessante ripercorrere la storia della letteratura anche guardandola da questo punto di vista. Io mi fermo qua, la prossima settimana ci vedremo con il terzo appuntamento di questa tripletta dedicata a Non era una brava persona e io mantengo il silenzio stampa, quindi segreto d'ufficio, non vi dirò assolutamente chi è l'autore a cui ho pensato per la prossima settimana, ma voi siete liberi di avanzare le vostre congetture e io sarò ben felice di leggerle nei commenti. Io vi ringrazio come sempre per essere stati qui con me fino alla fine e noi ci vediamo presto qui sul canale con un prossimo appuntamento. Ciao!